Benvenuti a questo nuovo video, sono Checco e questo è il mio primo video di Clash Royale Ci gioco non da tanto, però sono a un buon punto su Arena 9 Però sono sceso un bel po' quindi cercheremo di recuperare Abbiamo questi balloni Vediamo cosa c'è nel negozio Allora, il mio mazzo è questo Principessa Gran Cavaliere Strega Otturna Draghi Infernale Principe Nero Strega Stregone E Bocciavere Ora ci andiamo a fare la facilità E spiegamo che non ce l'ho Per esempio Allora... Mi metto la cilina Un po' la riuscire dietro E' come un po' la riuscire dietro Fatti, diciamo che si è abbastanza buono. Spero non mi muore la principessa, ma mi muore ovviamente. Avanti, vant'avanti. Va bene, abbiamo fatto un po' di danni, questo è l'importante. Facciamo un bocciatore. Ok. Grazie a tutti. e ci facciamo tornare alla prima delle patte come frega cerchiamo di fermarsi con l'espirante con le principi sono il favore ok è un principe vero no non mi ha uccidato il principessa e non mi ha uccidato ok ma che è questa partita nostra è stata una turno no la ha messo dietro e la ce la portiamo a casa di una partita di questo video ma è più 29 ma vuole ragione vediamo un attimo un'occhiata ancora posso pensare così che possiamo avanzare di livello è che ho molte monete quindi è meglio potenziale ok che cavolo sto combinando vediamo che può bastare andiamo già a fare un'altra partita vediamo 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 c'è un po' di filmare e no lo sapevo qua stiamo uguali molti vuoi direi che ci hanno fatto la torre come la filazione E facciamo di fare qualcosa anche noi Non mi dico più male quel dramma infermale Vabbè non fai lì Ho messo gli schierilli Ho messo il fogone No Ho un po' di danni Fai un po' di danni Ok La frega La frega In modo che si viste Si viste lo grigli Mentre la frega 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 Accorle La frega La frega La frega La frega La frega Riesponiamo. E' poco da lì. non mi devi fermare questo attacco ok se questa vecchia la consigliamo così più facile la consigliamo così se non ce la fare la bussa che si è a caso vabbè una non la siamo riusciti a portare a caso allora 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 direi di portare una modifica al notec di aggiungere il principe al posto del principe nero fatemi direte scrivete nei commenti se è meglio o no perchè poi se se la maggior parte diranno che non va bene io rimetterò il principe nero ok partiamo subito direi di partire con un segone qui dietro ok ok a profi danni o no e non m'ont venuto ancora vengo 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 anche se fosse un po' di bollare se mi metto il cavale è stato tracciato ma ho l'ho d'autres pezzi Allora prima si arriva fatta da lui, questo è nuovo, mi fa anche la centrale. Vai! Abbiamo fatto questa torre, abbiamo qualche speranza. Allora dobbiamo riuscire a farci quella torre lì, forse ce la facciamo, oggi abbiamo recuperato la prima partita, ora non mi devo far attaccare efficientemente, dobbiamo riuscire, e abbiamo recuperato questa partita alla grande e ci siamo portati la vittoria a casa. Ok ragazzi, vi porterò ancora un altro video di Clash Royale quando starò per raggiungere questo bowl qui, lo apriremo insieme in futuro e direi che potrei concludere questo video. Questo è il mio primo video di Clash Royale, spero che vi sia piaciuto, scusatemi, spero vi sia piaciuto, ciao!